Alexander Kiriatsky della creazione universale 5 all'epoca di caos nucleare potente dio all'elementare molecola facendo generare quell'embrionale inizio che dal nostro astro sale ed era più grandioso alla valle di prima ha creato le comete non i pianeti lontani per difendere costretti la nuvola a porta alla gente da molte pietre gira quell'ambiente più differente e le meteore per i tempi rossi si fanno le cinture ai più grossi Nettuno e Urano scrupolosi aprono l'era ai piccoli pianeti come Terra miliardi tredi anni fa la vera ripetizione era di quel natto scelto all'atto Per trasformare nell'acqua il mandato ossigeno che dalla grande orsa fornì l'enigma della vita scorsa l'agile morsa Ma dopo anni quelli sono miliardi Saturno congelò i primi dardi dal comete infinite in ritardi vincola Giove e lì fetonte del futuro Ove si generarono le forme nuove di ciò che non sviluppa mai il girone dell'embrione Da prima Marte cominciò l'unione di Terra e di Venere da presso Mercurio poi ancora va dal nesso all'astro stesso Aleksandr Kriyansky L'11 gennaio 2022